La diversità va accolta e valorizzata. È giunto alla quinta edizione il convegno organizzato dall'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco. Insieme si può, l'autismo non a voce, tenutosi venerdì pomeriggio nella sala teatro. Un momento di confronto tra la scuola, le famiglie e le istituzioni. Come si può affrontare questo tipo di problema in ambito scolastico? Si può affrontare quando siamo tutti insieme ad affrontare il problema a 360 gradi, dialogando non solo con i genitori degli alunni ma anche con le istituzioni. Hanno partecipato l'assessore Pensati, rappresenta il comune editore del Greco, la pubblica istruzione, la psicologa e doveva esserci anche il dottor Corbisiero che per problemi sopraggiunti non è venuto, quindi l'ASL e quindi il mondo medico scientifico, la politica e la scuola, quindi dei docenti di sostegno come docenti della comune e rappresentanti dei genitori che hanno appunto figli con problema autistico. Perché? Perché l'autismo è il grande sconosciuto. Il compito della scuola è smuovere gli animi, promuovere la conoscenza di questo fenomeno affinché non si consideri una tragedia, ma perché la vera tragedia è l'ignoranza, è l'incapacità di comprendere che la diversità deve essere accolta, valorizzata e che è necessario maturare il giusto approccio metodologico e didattico con queste situazioni che sembrano apparentemente non risolvibili, ma che in qualche modo si risolvono se si riesce a trovare la strada giusta per poter relazionarsi con queste persone che poi sono tutte diverse l'una dall'altra e tutte caratterizzate dalla voglia di essere ascoltate, monitorate, amate, comprese, seguite. Anche quest'anno la scuola Giacomo Leopardi è rinnovato per la quinta edizione il convegno sull'autismo. Dobbiamo lavorare ancora molto affinché possiamo togliere quelle che sono le barriere, soprattutto quelle mentali, perché le famiglie sono stanche, la consapevolezza ci deve essere il giornale del 2 aprile, però dobbiamo andare anche oltre a quella che è la formazione e l'informazione, quindi dobbiamo combattere per dare un po' di sollievo a quelle che sono le famiglie che hanno un figlio con lo spettro autistico. Io mi occupo di autismo, mi occupo di problematiche relative alla disabilità e in modo particolare ho affrontato il problema dell'autismo perché innanzitutto devo precisare che prima di essere parlamentare, io sono dirigente scolastica, ho lavorato nella scuola per più di 40 anni, per cui le problematiche dell'autismo sono state sempre a me molto care, ho sempre cercato di venire incontro alle esigenze delle famiglie e proprio il 14 febbraio alla Camera dei Deputati ho depositato una mozione a mia prima firma ma condivisa da tutti i gruppi parlamentari che cercava di venire incontro alle richieste delle famiglie che a settembre hanno manifestato in Piazza Montecitorio per contrastare, per sollecitare l'inerzia dello Stato verso le problematiche dei genitori con figli che diciamo hanno problematiche relative allo spettro autistico e in particolare con la nostra mozione abbiamo cercato di sollecitare l'applicazione delle tante leggi che comunque in Italia ci sono ma vengono disapplicate, in particolare mi sono occupata della figura del caregiver familiare cioè quella persona che si prende cura delle persone autistiche e che dedica tutta la propria vita, io dicevo ogni momento della propria vita a migliorare la qualità della vita invece delle persone autistiche. Con la nostra mozione ripeto condivisa da tutto l'arco parlamentare, da tutte le forze politiche di governo abbiamo cercato di, cercheremo di intervenire affinché ci sia una maggiore omogeneità a livello nazionale affinché la figura del caregiver venga riconosciuta a livello nazionale e soprattutto a livello di contributi e cercare poi di garantire a queste persone autistiche una qualità di vita attraverso il progetto di vita mediante anche il budget di salute. Insomma una legge che a 360 gradi si occupa dello spettro autistico. Il comune come tutte le istituzioni devono innanzitutto sensibilizzare nei confronti di questa problematica e fare in modo che le famiglie non restino sole. Da questo punto di vista particolarmente importante è l'azione che fanno le scuole. Noi dobbiamo moltiplicare i tavoli di confronto con l'azienda sanitaria locale, con le scuole e con le famiglie. Deve essere messa al centro dell'attenzione, non è qualcosa da riporre nel dimenticatoio, non è qualcosa da scartare ma qualcosa da valorizzare perché i ragazzi autistici sono un valore e noi abbiamo bisogno di loro e delle loro potenzialità perché ne hanno veramente tante. Cosa fa il vostro istituto a fronte di questi ragazzi con questo tipo di problemi? Il nostro istituto propone tante attività a seconda della potenzialità del ragazzo. Dalla fattoria didattica che stiamo valorizzando alla cura di orti, al laboratorio di falegnameria, al laboratorio di economia domestica, al laboratorio che ha come obiettivo la cura della persona. Le difficoltà che ancora oggi ritroviamo nel lavorare con ragazzi e bambini autistici sono ancora tante. Questo per diversi fattori che possono partire sia dalla formazione e dalla strutturazione di un personale sempre più formato e aggiornato per quanto riguarda appunto il lavoro fatto con persone con autismo e anche per le strutture che ancora oggi presentano dei limiti sia strutturali che di accoglienza per integrare e accogliere al meglio i ragazzi. Il fine ultimo è sempre quello di migliorare la qualità della vita dei ragazzi e delle stesse famiglie.